che è molto più importante, almeno dovrebbe. Abbiamo un altro telespettatore in linea, pronto? 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 Pronto, mi sente? Sì, è in diretta, prego. Sì, è in diretta. Perchè scangiati da? Pronto? Professore? Sì, è in diretta, l'ascoltiamo, prego, prego. Eccomi. Professore? Sì. Sono un cittadino di San Paolo, posso venire a trovare domani mattina? No, domani no, venga venerdì mattina. Ecco, vada venerdì mattina, se è ascoltato facciamo un'ulteriore eccezione, però purtroppo pagheranno i prossimi per queste due telefonate, non accetto telefonate in cui chiedete soltanto un appuntamento del Presidente Scissuli, questo sia chiaro. Basta chiamare la segreteria della provincia, chiamano la segreteria della provincia, il numero telefonico è ben noto. Allora, vogliamo dare il numero di telefono della segreteria della provincia? 54 12 350 con prefisso 080. Allora, è molto più semplice, chiamate direttamente la provincia e chiedete un appuntamento, però credo che non sia giusto anche nei confronti di altri telespettatori che invece espongono il problema in diretta, chiedere direttamente un incontro a Presidente Scissuli, questo sia chiaro, non mi fate tornare nuovamente su questa questione. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Ma evidentemente non l'hanno dagli altri rappresentanti istituzionali. Evidentemente sì, però non possiamo farle noi da ponte anche per la sua segreteria. Pronto? Senta, sono Cippone da Grumo, sto a Grumo di casa, sono un barese. Qui è da un bel po' di tempo, visto che abbiamo l'occasione di stare, di parlare con il professore. Il discorso dell'ufficio postale che arriva alla posta, in particolare le bollette telefoniche, gas, arrivano sempre con 15 giorni, 20 giorni perché la posta non funziona. Oltretutto il pagamento delle pensioni sono sempre che quando fanno soldi ingomigiano a pagare, altrimenti non si paga. Non vedo questo ritardo di queste fatture, di queste cose. Fino adesso io ho telefonato all'Intergasso, ho parlato, almeno fare un avvertimento all'ufficio postale, perché qua ogni giorno cambiano i postini. Quindi mi perdoni, che fate? Voi ricevete in ritardo il pagamento, pagate con la mora, no? No, fino adesso io ho telefonato all'Intergasso e mi hanno detto non ti stare a preoccupare perché non la dedichiamola all'amora. Però non vorrei arrivare a prendere questo abuso di potere. Perché quando si va, si vuole parlare con il direttore e il direttore dice sta a Bitonto. Noi ci dobbiamo spostare, che non è vero perché sta in sede a Grumo. Io non vedo questo motivo perché questa organizzazione. Vorrei fare un avvertimento al professor Schittoni. Se si interessa presso questo ufficio postale, che poi è l'unico ufficio postale. Va bene, perfetto. Grazie per il suo intervento, Presidente. Purtroppo come ufficio postale, ci sono altri uffici postali. Io personalmente mi lamento perché presso il mio domicilio non arriva la posta giornalmente, ma arriva a distanza davvero di giorni. E quindi certe volte mi arrivano degli inviti, postomi, quando già ci sono state espletate queste celebrazioni, questi eventi. Le poste però, peraltro, sono oramai, sono una realtà privata, gestite da privati, non dal pubblico e quindi un servizio pubblico che è stato scippato, diciamo così, all'interesse in un certo senso proprio del cittadino. Per cui né io ho possibilità o mezzi per intervenire, in questo caso semmai dovrebbe essere il sindaco che si deve far carico di un problema che riguarda il proprio territorio e la propria città. Non si può fare diversamente. Va bene, abbiamo un'altra telefonata. Pronto? 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 Pronto sì, buongiorno. Prego, prego, l'ascoltiamo. Vorrei parlare col professore Crittilli. Sì. Per domani mattina, è possibile? Mi perdoni, lei ha chiamato prima? Come? Lei ha chiamato prima? Sì, sì, ho chiamato prima. Sì. Allora, Presidente? 54 12 350. Allora, il numero della segreteria del Presidente è 080 5... 4 12 350. 5 4 12 350. Può chiamare direttamente la segreteria del Presidente e fissare un appuntamento. Non si possono fissare appuntamenti attraverso una diretta televisiva. Speriamo di aver sgombrato il campo da ogni dubbio e che non ci richiamino nuovamente per chiedere un contatto diretto. Altrimenti su Facebook possono chiedere direttamente al sindaco o a qualche altro. Non lo so, adesso non so quali siano le motivazioni per cui la voglio incontrare, né tantomeno lo voglio sapere, però l'importante è che abbiamo rispetto per una diretta televisiva che non è certamente deputata a fissare degli appuntamenti con il Presidente Scrittulli. Se volete gli appuntamenti con il Presidente Scrittulli, chiamate la segreteria del Presidente. 0 80 5 4 1 2 Lo dica lei ad alta voce, Presidente. 1 2 3 5 0. Ok, perfetto. Ma poi basta guardare sull'energia telefonica. Va bene, 5 4 1 2 3 5 0. Scriveteci invece per voler sottolineare qualunque cosa abbiate da sottolineare. Scriveteci all'indirizzo di lo scrittulli, chiocciolatelebari.it, 0 80 50 1 9 9 9 8, il numero per intervenire in diretta. Stavamo parlando dell'abolizione delle province, mi faceva sorridere il fatto che è la sua eventuale volontà di rimettersi nel caso in cui dovesse essere confermato il taglio delle province, che coincidesse proprio nel 2013 con l'eventuale tornata elettorale. Quindi potrebbe anche trovarsi bene. Lei ha detto che non sarà candidato, però voglio dire, per le provinciali o per le amministrative? No, è diversa perché lei mi ha parlato, potrebbe essere eletto, potrebbe essere nominato al Parlamento, ma siccome non mi vogliono, quindi non avrò questa nomina parlamentare. Per quanto riguarda invece le altre competizioni elettorali, il presidente Vendola esaurisce il suo mandato nel 2015, il sindaco di Bari Michele Emiliano nel 2014, quindi la regione rimane, il comune rimane, sono le province che vanno via e io tolgo il disturbo prima. Insomma, quando si parla di scadenze elettorali, in questo momento più che mai il condizionale è d'obbligo, almeno così mi pare. Allora, andiamo avanti. Per quanto riguarda no, ho detto, ho dato la motivazione. A quanto vale, si dice nel 2013 giustamente, non stiamo parlando delle elezioni locali, ecco, questo è che diamo. Solo il Parlamento nel 2013, ma io non sono uno, io semmeno quindi... Allora, c'è un'altra questione invece che ha sollevato non poche polemiche per Presità, una levata di scudi da parte dei territori regionali, soprattutto la Puglia in prima linea, per il taglio da parte del Cipe, ai fondi per la manutenzione scolastica. Stiamo parlando di un capitolo molto importante, perché ci sono molti edifici, soprattutto nella provincia di Bari, che necessitano di grandi manutenzioni, quindi sembra quasi che si stia giocando sulla pelle dei cittadini e sulla pelle soprattutto dei giovani studenti. Tra l'altro stiamo parlando di un taglio cospicuo di 25 milioni di euro, quindi non indifferente. Sì, ma guardate che ci sono dei tagli che diventano davvero incomprensibili e ingiustificabili con ricadute pesanti sui cittadini. Mi riferisco ai trasporti, mi riferisco all'edilizia scolastica, mi riferisco alla sanità. Prima anche, per quanto riguarda anche il semplice ufficio postale, faccio per dire. Cioè ci sono dei servizi pubblici che devono essere invece esaltati, non devono essere mortificati. E fare dei tagli in questi distretti, in questi comparti diventa davvero disastroso sotto ogni aspetto. Ripeto, edilizia scolastica, edilizia pubblica, lo stesso impegno per quanto riguarda le strade, la manutenzione delle strade. Ci sono dei servizi che non possono essere tagliati, servizi sociali. eppure lì si verifica questo. Ecco perché prima dicevo, questo governo mi sa che è un governo solo di rigore. Lo strano è che i parlamentari, la maggior parte della maggioranza assoluta dei parlamentari, dice che si sta verificando tanto, però quando siede sullo scranno del Parlamento votano la fiducia a questo governo. Andiamo avanti con la partecipazione della provincia di Bari all'abito di Milano. Questa fiera molto importante, possiamo definirla la fiera più importante del turismo, la provincia di Bari in vetrina, al pari della regione Puglia. Come è andata volendo fare un bilancio delle manifestazioni messe in campo dalla provincia di Bari?